Dolomiti Contemporane è un progetto che vive in simbiosi con il pubblico e il Covid-19 ne ha arrestato l'attività. Ora riapre gli spazi culturali che ha recuperato e rigenerato. I siti stanno decollando, in particolare il progetto Borca, che è il progetto di attivazione dell'ex Villa Giovanni di Corte di Cadore. A Borca non si ferma mai, anche in questo momento abbiamo una decina di artisti al lavoro, ma anche lì siamo un po' meno accoglienti degli anni scorsi. Ad esempio quest'anno non possiamo garantire le aperture al pubblico durante l'estate, cosa che abbiamo sempre fatto, ma i cantieri non si interrompe. E anzi a Borca è importante perché avremo due cose nel 2021 rilevanti. Una alla Biennale di Architettura di Venezia, nel Padiglione Italia, comunità resilienti, dove avremo un posto di rilievo anche con Borca e con tutti i progetti di Dolomiti Contemporane. Riapriremo lo spazio di Casso con due mostre ai primi di agosto, credo, stiamo definendo le date ora. I due siti più vivi quest'anno saranno appunto Borca e Casso, ma c'è un'altra serie di siti che stiamo affrontando, che affronteremo presumibilmente dalla fine dell'anno e soprattutto nel 2021, due dei quali sono anche a Belluno. Quindi ora non anticipiamo molto, ma sicuramente siamo interessati a tornare nel capoluogo dove non siamo attivi da anni, ma abbiamo sempre dei progetti che adesso forse intrecciano altri interessi da parte dell'amministrazione e di altre componenti che integriamo sempre i nostri processi di rete. Il progetto quindi funziona come il solito, abbiamo degli eventi importanti all'orizzonte, in particolare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lì ad esempio stiamo lavorando anche sul trampolino Italia di Zuella con diverse università di architettura italiana e straniere per immaginare un progetto di riuso e non solo di restauro di questa grande struttura che deve contribuire a lanciare il grande evento olimpico. Siamo ben attivi quindi con sempre l'idea della rigenerazione, del riuso sostenibile, di strutture importanti, quelle di cui ci occupiamo, che devono avere un ruolo nel progetto e nella vita del territorio. Le loro vite precedenti si sono interrotte e noi continuiamo ad essere quel processo di trasformazione di siti che si sono fermati in nuovi siti che non dimenticano loro stessi ma che si approcciano al presente e al futuro secondo una mentalità proiettiva che è quella che poi ci consente di riutilizzarli. Sempre includendo nella progettualità molti enti territoriali e locali, moltissimi, siamo sempre a quota 500 partner e poi portando molti partner dall'esterno, dall'estero, che sono anche i soggetti di investimento che poi insieme agli enti locali ci consentono, laddove ci riusciamo, di riattivare effettivamente in modo permanente e non solo sperimentale come nella prima fase di lancio con l'arte, questi siti che sono patrimonio di tutti e inseriti nel paesaggio delle Dolomiti Unesco, ecco, continua anche quindi la nostra riflessione sull'identità e la cultura di una montagna contemporanea che non sia solo retroversa ma proiettata in avanti.